Rispetto agli arrivi quanti in proporzione sono i positivi al Covid-19? L'organizzazione dietro le spalle contando magari su contatti diretti e personali si stanno rivolgendo adesso a questi centri quindi per capire bene le dimensioni del fenomeno è chiaro che ci vorranno ancora alcuni giorni. Il presidente della regione Marco Marsiglio conferma al Tg8 che tra i profughi ucraini arrivati in Abruzzo alcuni sono positivi al Covid-19 e che sono in corso i controlli sanitari necessari ringraziando tutti coloro che stanno contribuendo all'accoglienza. C'è una grande disponibilità da parte anche di tanti privati, non parliamo anche della grande generosità anche di chi si offre anche di adottare o di avere in affidamento i bambini orfani, ne sono arrivati a decine ad esempio a cerchio ma non solo quindi purtroppo se questa guerra va avanti e le vittime si moltiplicheranno questa emergenza umanitaria continuerà ad avere proporzioni ancora più grandi. Però appunto c'è una grande risposta che ci aiuta ad essere un minimo ottimisti, le persone si stanno rivolgendo come abbiamo indicato attraverso le prefetture e i comuni negli hub vaccinali per far essere identificate, per ricevere il tampone e quelli che lo richiedono e quelli che lo diciamo che qua consentono anche il vaccino. Olga vive da 32 anni a Pescara, ha già una sua attività ma la sua famiglia vive ancora in Ucraina, dove? Io sono di Kharkiv e tutta la mia famiglia quando è iniziata la guerra si trovava lì, mio marito, mia mamma di 87 anni e la mia figlia. Purtroppo sono stati lì 7 giorni sotto fortissimi bombardamenti in sottoterraneo, dopodiché sono riusciti a uscire con la macchina, hanno fatto 6 giorni di viaggio fino al confine con Polonia e attualmente si trovano in una casa di accoglienza prima di prendere la decisione di come attraversare la frontiera perché la mia mamma di 87 anni e mia figlia con la gamba rotta non riescono a spostarsi con la macchina perché mio marito vuole rimanere in Ucraina a combattere. Vogliono rimanere tutti lì a combattere, stanno arrivando come vedete solo le donne e i bambini qua. Stiamo vedendo che qui si sottopongono coloro che arrivano a dei controlli sanitari, cosa le dicono? Tutti, grazie a tantissimo Italia, l'unica cosa. L'aspettava questa generosità, questa accoglienza degli abruzzesi e dei pescari? Io aspettavo perché da 32 anni, lavorando a Milano, ho tutt'ora la casa pescara perché adoro Abruzzo, adoro la mia città pescara e sono convinta che adesso tutti insieme aiutiamo a vincere la guerra perché quando i nostri uomini sanno che i loro mogli e figli sono al sicuro le dà tantissima forza di andare avanti e vincere.